Ciao bellissimi, oggi vi faccio vedere una ricetta super veloce, super sana e buonissima è un hummus crudista di piselli che si può accompagnare con verdura cruda per coprire con la pasta, l'insalata o il spaghetti di zucchina vediamo il procedimento ho semplicemente decorticato tutti i pisellini crudi io ho utilizzato semplicemente una cremina buonissima a base di erba cipollina e germe di grano mi sembra, voi potete tranquillamente utilizzare l'olio d'oliva o appunto la crema tahini a base di semi di sesamo e spezie o erbe il sale già c'è nella salsina, altrimenti aggiungete un po' io uso quello integrale marino un pochino di porro e via, frullare tutto vi raccomando scrivete nei commenti se la volete provare se vi è piaciuto il video mettete il mi piace iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video